Le macchine D-Mac ci aiutano per garantire ai nostri clienti la miglior qualità dei nostri particolari, l'assenza di bave, la presenza o assenza di fori, cricche e tutto quello che noi andiamo a verificare, soprattutto nel nostro mercato che è il mercato dell'automotive e degli airbag, i nostri clienti richiedono l'assoluta assenza di corpi estranei, i trucioli. Grazie a queste macchine noi riusciamo a garantire il 100% dei particolari conformi e riusciamo a intercettare qualsiasi siano le problematiche sia di stampaggio che di lavorazione meccanica sulle dimensioni che i nostri clienti ci richiedono. Le due macchine che abbiamo acquistato sono due macchine a tavola meccanica, abbiamo scelto questa tipologia di macchine in quanto la maggior parte dei nostri particolari risulta essere intrappendibile, nel senso che sono tutti particolari con la flangia. Entrambe le macchine sono predisposte con tre tipi di camere che effettuano il controllo da sopra, da sotto e lateralmente per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali. L'MCV1 che ho qua alle mie spalle è dotata di una tipologia di controllo con una telecamera che va all'interno dei particolari che va a controllare anche i particolari dove sono presenti i gole per garantire l'assenza di trucioli o microtrucioli all'interno del particolare che va nel sistema di airbag. Abbiamo scelto questa tipologia di macchine con un processo completo quindi dal caricamento attraverso tramoge all'uscita direttamente con l'L-Box e quindi con un'imballatrice automatica per gestire più processi insieme e per automatizzare il più possibile il controllo dei particolari e l'imballaggio di questi ultimi. Con l'MCV1 abbiamo la garanzia di imballare direttamente particolare dopo la selezione quindi evitare qualsiasi tipo di contaminazione esterna e di avere le quantità giuste e precise dei nostri imballaggi come richieste al nostro cliente.